31 opere di Karl Ruttart pronti a partire per il Museo Nazionale di Danzica, città natale del pittore celestino. Opere dall'estrema delicatezza che questa mattina sono state preparate e imballate dagli esperti e dalle restauratrici del Museo Munda dell'Aquila prima di poter affrontare un lungo viaggio che le porterà a destinazione per la mostra internazionale dal titolo Natura e Spiritualità, dedicata al pittore monaco celestino che ha avuto con l'Abruzzo un rapporto lungo e intenso. Ma come devono essere preparate opere, tele, tanto antiche e delicate ad affrontare un lungo viaggio? Lo abbiamo chiesto a una delle restauratrici del Munda. Tutte le volte che un'opera deve lasciare la sua sede per andare in mostra da un altro museo e quindi subire un trasporto, ci sono delle operazioni che sono necessarie e bisogna compiere prima e anche dopo. Innanzitutto una scheda sanitaria, come diceva lei, che serve a certificare lo stato di conservazione al momento della partenza per poter verificare al momento dell'arrivo che non si siano verificati danni durante il trasporto e soprattutto durante il trasporto l'opera deve poter viaggiare in condizioni ottimali di conservazione e quindi deve essere imballata con dei materiali specifici che la proteggano e con delle casse specifiche che per esempio ammortizzino i traumi degli urti durante il trasporto, le carte che la devono avvolgere devono non essere acide e quindi non innescare meccanismi di degrado. È una procedura, sono delle procedure standard che sono codificate che noi dobbiamo controllare, verificare e soprattutto mettere in atto. Sono opere che raffigurano non soltanto le scene di vita remitiche, si tratta dei bozzetti per le grandi tele di Colle Maggio ma anche cacce, natura e morte, paesaggi, ritratti di Celestini, i beati più importanti dell'ordine. Ruttart opera in Abruzzo per oltre 30 anni e per il suo lavoro è un'opera.